In che modo LGNet2 ha reso la città più inclusiva? Ha dato dignità alle persone, le ha dato la possibilità di individuare una soluzione abitativa, cosa non facile nella città di Bolzano e specialmente il modello vincente è stato quello dell'accompagnamento, della presentazione delle persone agli agenti immobiliari piuttosto che ai proprietari di casa. Questa funzione di filtro è essenziale, di spiegazione logica, che davanti a te non hai una persona straniera, ma è un cittadino della città di Bolzano che sta cercando un'abitazione alla pari di tutti gli altri. Ecco, questo superamento, questo schema di lavoro è stato davvero vincente e ha portato degli ottimi risultati.